ci riprovo con un testo idoneo per una fascia d'età a partire dai cinque anni se me li mandano vuol dire questi libri che devo e posso recensirli allora procioni orsi volpi e chi più ne ha più ne metta uniti dalla voglia di amicizia il volumen esalta pieno alla bellezza di questo meraviglioso sentimento e del desiderio di passare insieme una indimenticabile giornata dispenserata collaborazione per risolvere i problemi di ciascuno fra risate e una golosissima merendina